E qui a Casteldrisangolo vi sono anche due tifosi norvegesi direttamente dalla Norvegia per Leo Ostigard Quindi venite qui per vedere Leo Ostigard e sei qui in vacanza, no? Sì, è davvero meraviglioso vedere Ostigard a questo nuovo club di Napoli, è davvero un grande passo per lui Penso che potremmo migliorare per il team e aiutare Napoli per vincere la Serie A E spero di farlo in la Champions League Ola Solbacca, è anche un giro che potrebbe essere un nuovo giro di Napoli Qual è la tua opinione su Solbacca e credi che sia un giro giro per questo team? Sì, credo che sia davvero buono per Napoli Ha mostrato i suoi abilità contro la Roma E è un giro che potrebbe migliorare il sistema di Napoli Ha davvero buone strutture e potrebbe prendere i giro di giro di 1 per 1 E creare molte possibilità per Napoli Grazie molto da due tifosi norvegesi che però sono tifosi del Napoli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti